Eccoci qua, buongiorno, siamo tra una diretta e l'altra con il Papa e questo viaggio apostolico in Africa e allora la rassegna stampa questa mattina in diretta si inserisce tra due appuntamenti, tra poco ci collegheremo quindi di nuovo con il Kenya, con l'Africa dove appunto Papa Francesco sta portando avanti questo viaggio apostolico molto importante. Allora dicevo ci inseriamo in questo contesto e vediamo subito qual è il santo di oggi. Oggi in realtà non è un santo ma è la Beata Vergine della Medaglia Miracolosa che tra l'altro Fano TV si recita tutte le mattine prima del Rosario, quindi intorno alle 7, forse anche qualche minuto prima. Il sole è sorto alle 7.16 e tramonterà alle 16.35 minuti. Vediamo il tempo velocemente, anche oggi abbiamo una giornata piuttosto instabile, soprattutto nella parte centro-meridionale della regione, sta migliorando invece nel corso della mattinata e poi giù giù verso il pomeriggio, sta migliorando verso il settore invece settentrionale, anche quello costiero con qualche schiarita dal pomeriggio, le nevicate saranno attorno ai 700 metri, le temperature stazionari oppure lieve aumento, i venti sono forti da nord-est. Vediamo invece che cosa ci attende per domani. Le previsioni per domani vedono un tempo abbastanza variabile con nuvolosità e cielo parzialmente nuvoloso, non si escludono deboli ed isolati fenomeni nella tarda serata e nelle prime ore della successiva nottata, le temperature lieve aumento, i venti sono moderati da nord. Domenica 29 di novembre, vedete il tempo migliore ancora, con temperature in aumento, i venti sono deboli, tra l'altro pare che arriverà di nuovo il caldo africano, quindi insomma staremo a vedere, ma questo è quello che indicano le previsioni. La tendenza invece, secondo il sito della protezione civile delle Marche, la tendenza per i giorni successivi è quella di tempo stabile per gran parte della prossima settimana, vedete anche qui c'è l'aumento delle temperature. Cominciamo dalla cronaca. Ieri un operaio, un operaio che lavorava alla Profinglass di Bellocchi a Fano, è stato soccorso dall'eliambulanza perché gli è finito il braccio sotto una pressa. Ne parlano ovviamente tutti e tre i quotidiani questa mattina. Si tratta di un 58enne, il giornale scrive anche il nome di questo operaio di 58 anni, Pierino Livi, che ha avuto il braccio destro schiacciato sotto una pressa che piega i profilati in alluminio. È stato liberato dai vigili del fuoco e poi appunto portato in Ancona con l'elicottero. La pagina di Fano invece apre con lo sciopero di due ore degli operai della Saipem e Sindial, lavoratori in bilico in cerca di risposte. Nonostante le rassicurazioni degli ultimi giorni, permane infatti la preoccupazione, secondo i sindacati, che il gruppo voglia abbandonare il paese concentrando le sue attività sull'esplorazione del gas e del petrolio. Lara Ricciatti, l'onorevole, dice seguo la vicenda ormai da un anno e mezzo, ho chiesto chiarimenti. L'altra pagina invece del Carlino punta sugli studenti che sono scesi in piazza, prima in piazza e poi sotto la sede del comune in via San Francesco a Fano per protestare contro il freddo, il freddo nelle aule scolastiche. I riscaldamenti erano rotti, i tre licei protestano. Vedete qui una foto scattata ieri mattina in piazza. Non è la prima volta, manifestiamo anche per insegnanti e bidelli. Poi ieri sera in realtà l'assessore Cristian Fanesi ci ha mandato un messaggio per dire che i termosifoni al campus scolastico erano già ripartiti e all'interno delle aule c'erano già 18-19 gradi. Quindi questa mattina dovrebbe essere, scrive Cristian Fanesi, tutto regolare. Dice poi, almeno lo spero, insomma comunque in ogni caso verificheremo presso la segreteria scolastica. L'altra pagina del resto del Carlino è Damarotta, l'outlet arriva all'ok della provincia e dunque la provincia, il Consiglio ha votato all'unanimità quest'atto del comune di Mondolfo, un rilancio per il territorio anche sotto il profilo occupazionale. Il vice sindaco di Mondolfo, Carloni, dice che si aprono opportunità economiche e turistiche per tutta la vallata. Però, come abbiamo già detto più volte, insomma non tutti sono d'accordo su questo grande megacentro commerciale. Invece in tribunale un ottantenne ha patteggiato per aver palpeggiato delle ragazze. Il titolo Mano Morta ha pizzicato un pensionato, l'uomo era stato derubato in un bagno di un supermercato da una finta ammiratrice. Il Carlino questa mattina ripercorre un po', ricostruisce un po' la vita di questa persona, di questo uomo di ottant'anni che tra l'altro negli anni settanta venne anche arrestato per omicidio perché aveva ucciso in un impeto d'ira la moglie. Poi però, come potrete leggere sull'articolo di Damiani, appunto sul giornale, c'è stato un episodio invece in cui è stato anche raggirato in un bagno da una donna che gli ha sfilato 80 euro. Si parla sul giornale bolognese anche di quello che sta succedendo in questi giorni anche agli sportelli della nuova Banca delle Marche. C'è chi trova anche il coraggio di raccontare le proprie disavventure, quello che è successo in questi anni. Come Roberta Crescentini, che è consigliera comunale di Siamo Pesero, che ha perso 1.000 euro di azioni nell'operazione di salvataggio di Banca Marche. Al momento del rinnovo del Fido, racconta lei, mi è stato chiesto di acquistare le azioni di Banca Marche, anche di minimo importo, con la motivazione che questa cosa avrebbe accelerato la pratica di rinnovo del Fido. E adesso andiamo sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano. La pagina di Fano in primo piano mette il venerdì nero che dovrebbe fare affari soprattutto ai clienti ma anche ai commercianti. Black Friday, sconti fino al 70%, 8 esercenti su 10 del Centro Storico Fanese aderiscono all'iniziativa del Comitato 2.0 per il via agli acquisti. L'organismo spontaneo di categoria si è rinnovato, promosse iniziative di animazione integrativa. Il Comune collabora con Monbaroccio e Candelara, 600 promotazioni per il presepe di San Marco e domani con la banda musicale si accendono anche le luminarie. Siamo sempre nel Centro Fanese. Alle 17.30 la cerimonia accompagnata da un corteo di amministratori e commercianti. L'albero invece verrà acceso una settimana dopo. Test politico sull'urbanistica. La variante di Cucurano torna in aula dopo il rinvio per un parere legale. Il terreno agricolo reso edificabile nega gli impegni elettorali del centro-sinistra che bocciò due volte l'atto. L'altra pagina invece del Corriere. Andiamo qua in basso a cartoceto. Eccedenze, cioè quello che avanza nelle mense scolastiche in termini di cibo, quello che avanza dalle mense della scuola, servono a cartoceto per i bisognosi. E la Caritas di Lucrezia, che cura il confezionamento dei pasti, pensate, in un anno e mezzo ha distribuito circa 1.750 pasti, appunto ottenuti dalle eccedenze derivanti dalle mense scolastiche. A cartoceto, dice il vice sindaco Michele Mariotti, abbiamo una quarantina di famiglie che versano in gravissime condizioni economiche. Non si tratta solo di quelle extracomunitarie, ma ci sono anche le famiglie italiane, dalle famiglie povere ai redditi dei consiglieri regionali. Ma non vogliamo fare nessun tipo di ragionamento su questo, ci limitiamo semplicemente a leggere quella che è la pagina Marche del Corriere Adriatico. Tutti i redditi dei consiglieri regionali, scrive il giornale. Maggi possiede una barca, Zaffiri solo la pensione, ecco nel dettaglio le loro dichiarazioni. Qui troverete in questo riquadro pubblicato sul Corriere tutta la classifica. Io mi limito semplicemente a dire chi è il più ricco del Consiglio regionale, in base alle dichiarazioni presentate quest'anno, ma riferite a redditi del 2014. Il più ricco è Mirko Carloni, che tra l'altro è fanese. Sul podio con lui ci sono due medici, l'assessore al turismo Moreno Pieroni, che è un odonto tecnico, e Fabrizio Volpini, che invece è un medico di famiglia. A Pesaro invece lavora per l'area vasta, ma non ne ha i titoli. Croce Europa Valconca gestirà anche le nuove potes di Pesaro e Montecchio, decreto regionale ignorato. La postazione di Calcinelli affidata ad Antares, poca chiarezza, non siamo, dice, in grado di partire. Boutique Ratti invece, sempre a Pesaro in festa, per i suoi 70 anni, di eleganza. Domani nello storico spazio di Via Rossini, cocktail fra nuove collezioni e splendidi capi di alta moda. Adesso invece andiamo sul messaggero, anche qui in evidenza, nuova banca delle marche, il personale. Il personale dice, adesso temiamo aggressioni da parte degli azionisti che sono infuriati. A lanciare l'allarme sono i sindacati, gli addetti agli sportelli dicono, chiamati a rispondere personalmente delle perdite. Sono 43 mila i possessori di azioni che si sono visti a zerare il valore dei loro titoli. Mentre sulla sanità Ceriscioli dice, non ridurremo i servizi, 15 milioni in meno dal governo. Il Presidente dice, avevamo già accantonato quelle risorse. L'altra pagina del messaggero, sempre sulla questione di Banca Marche, Giordano, che è il direttore di Confindustria, Salvatore Giordano, che vedete in questa fotografia, dice, brutale scelta del governo. Il direttore di Confindustria, agli azionisti è stato chiesto un sacrificio pesante verso ripercussioni legali, mentre forti perplessità continuano ad emergere dal mondo imprenditoriale. Poi sotto la politica, invece, Baldelli presenta il direttivo di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli presenta il direttivo provinciale del suo partito e dice anche con Banca delle Marche, non hanno salvato nulla, solo affossato migliaia di risparmiatori e imprenditori. L'altra pagina, sempre sul messaggero, la cronaca da Pesaro, un'auto va a fuoco in Viale Gramsci, mobilitazione e trambusto in centro, poche ore prima una fuga di gas in via Ginevra. Poi da Fano, invece, il liceo Nolfi, senza riscaldamento, sciopero in massa degli studenti, la protesta di oltre 500 giovani in corteo, abbiamo freddo, urlano loro, qualcuno aveva anche le coperte che si è portato in piazza. L'assessore Fanesi ha incontrato i ragazzi, la provincia parla di un guasto tecnico che, come dicevo prima, è stato comunque già risolto. Cristian Fanesi dice ho verificato la veridicità del disagio sollecitando un intervento risolutore, anche i docenti sono solidali con gli alunni, la situazione, dicono, andava avanti da giorni. Poi su Facebook, in realtà, si è scatenato un dibattito sulla nostra pagina di Facebook, perché qualcuno dice beh, come sono andati in piazza, che è anche più freddo, potevano stare a scuola, oppure ai nostri tempi, insomma, un dibattito che non finisce più, come spesso accade sui social network. A Sassonio, invece, raffiche di vento e mare in burrasca, in via Le Ruggeri è di nuovo emergenza. Le onde della burrasca hanno invaso di nuovo l'asfalto di via Ruggeri, chiuso al traffico per la stessa ragione già nella giornata di domenica scorsa. Chiudiamo con l'appuntamento di Confesercenti, torna il Festival del Baccalà. Su questo articolo, in questo articolo potrete leggere il dove, come e quando. Io mi fermo qui, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi auguro una buona giornata, vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS